Un'integrativa che si rivalta nel tempo, è la sicurezza delle generali che garantisce il futuro del tuo tenore di vita. Generali, un libro aperto. Che c'è di nuovo nel mondo Super 5? Ora ve lo posso dire, tutto. Super 5 GT Turbo. Nuova velocità, nuova tenuta. E poi la Super 5 GTX. Nuova eleganza, nuovo comfort. Le Super 5 sono in nuova edizione e l'addizionale IVA del 4% la offre il concessionario. Perché il mondo Super 5 non si ferma mai. Uno, due, tre, Rai. Con la nuova stagione televisiva di Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutti, proprio tutti, possono trovare quello che desiderano a qualunque ora. Basta scegliere. Uno, due, tre. Rai. Di tutto, di più. Grazie a tutti.